a belli grande max ciao buon pomeriggio carichi ciao sarà ciao lorenzo Gianluca buon pomeriggio Giordana ciao Ariel buon pomeriggio Giulia ben trovata eccoci ciao Roby buon pomeriggio ciao Igna un bacio a te se sai il perché ciao Gerry e ciao Agatha ciao Ale grazie ciao Angel buon pomeriggio eccoci ragazzi ciao Franci ciao Fabrizia buon pomeriggio a te grande max buon pomeriggio allora ragazzi ben trovati buon pomeriggio a tutti ci siamo siamo di nuovo qua Huawei e Roma Ostia ciao Glee ciao siamo prontissimi allora ragazzi sarò breve ormai avete capito come lavoro bando alle ciance si parte allora il lavoro di oggi gambe addome e glutei avete visto un pochino in questo modo saliamo ancora un pochino con l'asticella andremo a fare mobilità articolare sei esercizi 30 secondi di recupero 10 30 secondi di lavoro 10 secondi di recupero e poi visto che c'è stato qualche maschietto che ha detto che prediligo solo le femminucce con le gambe e glutei facciamo un riscaldamento ad alto impatto per gli arti superiori così faccio contenti tutti quanti detto questo dopo il nostro riscaldamento che è bello progressivo andremo a fare due blocchi da 16 minuti non stop tutte serie da 30 secondi gli esercizi saranno quasi sempre quelli però si mena ok ragazzi io no non c'è recupero oggi non si recupera oggi si mena ok ragazzi perché dopo provo a farmi una corsetta se ci riesco quindi la musica mi sembra che c'è ci state con la musica mi metto un'antichia più alto allora riscaldamento molto semplice iniziamo con la circondizione delle spalle io faccio partire il mio bel crono che ho già impostato per il lavoro di oggi allora bene ragazzi buon viaggio sono quasi 50 minuti si parte con la circondizione frontale ok 4 3 2 1 vieni scivola i primi sei esercizi ragazzi sono di mobilità articolare perché ci prepariamo al lavoro come vi dicevo prima degli arti superiori tenetevi vicino dei pesetti o delle bottiglie di acqua perché comunque lavoreremo caricando un pochino sugli arti superiori quindi seguite bene il mio lavoro perché in mezzo ci ho messo anche uno spacca addome niente male 3 2 1 mi fermo porta le mani lungo l'asse del corpo andremo a slittare lateralmente piano andremo a scendere 3 2 1 inspiro scendo e inspiro sali la testa segue il movimento ok di flessione del busto palmo della mano che scivola lateralmente ricordatevi quello che vengo sempre a dirvi scrivete poco e allenatevi perché altrimenti io me ne vado ok quindi state sul pezzo e via 10 secondi inspiro scendo espiro salgo vai tienilo 3 2 1 si recupera mani al bacino anti orario per i primi 15 secondi orario della restante parte 3 2 1 gira ale vai bene la mobilità del tronco via 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 ale forza mantienilo si cambio giro vai ragazzi mobilità gira bene col busto forza segui il lavoro via 4 3 3 2 1 si recupera good morning lavoro sulla zona lombosagrale gambe flexe inspiro scendo e ispiro salgo ricorda il gomito in linea con la spalla 2 1 scendi sali inspiro e ispiro guarda bene il mio gomito non è chiuso è rilassato il braccio inspiro scendo e ispiro salgo 20 secondi mantieni e poi andiamo a lavorare sulla rotazione posteriore forza 10 secondi tieni 2 1 vieni su col busto porta le mani e andiamo a ruoteare posteriormente ok le scavo le memoria in adduzione 3 2 1 gira ale vai vai forza eh 10 secondi vado a fare uno skip passo molto leggero e poi iniziamo con il lavoro sugli superiori 2 1 si recupera skip passo eh ok tanto fa caldo il nostro corpo inizia a scaldarsi un pochino prima del solito vieni via ok ricordatevi il movimento degli arti superiori punta del piede e si stacca di poco dal tappetino step successivo andremo a prendere le nostre bottiglie di acqua dell'asse o anche i pesetti soliti e andremo a fare delle alzate laterali in modo molto lento ok tieni qua 5 secondi vai 3 2 1 recupero bottiglie apri bene le spalle gambe che sono scarica a terra per la colonna 3 2 1 sali giù prendo aria fuori aria prendo aria fuori aria ok vai vai prossimo esercizio naturalmente abbiamo 10 secondi di recupero sono i piegamenti a terra sulle braccia i classici push a forza 10 secondi iniziamo a memorizzare perché abbiamo due giri di questo di questo blocco eh 3 2 1 si recupera tienile vicino braccia larghe push a 5 3 2 1 pompa lento ascolta bene il gran pettorale vieni su fletti il giumito vieni inspiro scendi fuori aria sali stringi le chiappette stringi i glutei per 10 secondi dopo vieni in posizione prona quindi pancia in appoggio al tappetino e andremo a eseguire un superman completo ancora una recupera morbidi giù braccia di stelle e su ok superman completo 3 2 1 sali scendi sali lentamente in spiro prendo aria vai dopo delicatamente ci si alza riprendiamo i nostri pesi e andremo a fare un push press quindi lavoro di spinta delle braccia verso l'alto 3 2 1 in piedi sali piano busto eretto push press 3 2 1 sali sali fuori aria prendi carica spingi vai 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 abbiamo un jumping jack dopo eh sì sì e poi ripartiamo col giro quindi ripartiremo con le alzate laterali vai 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 Azione, braccio e gambe, apro e chiudo, forza, via, via, tutto insieme, vai, ale, ale, non mollare, 10 secondi, con me, 4, 3, 2, dai, 1, rest, riprendi i tuoi pesi, Secondo giro, alzate laterali, scarica le gambe, petto in fuori, 2, 1, sali, sali, allora andiamo a ripetere tutto questo blocco, dopodiché c'è un piccolo recupero, vi do la possibilità di bere e andremo a fare due blocchi di spacca addome, ok? E poi iniziamo con le nostre gambe, addome e glutei, 5, forza, 4, 3, via, 1, recupera, vieni a terra, push, push, up, classici impiegamenti, allora chi vuole vi do anche una variante per aumentare la difficoltà, guarda il mio piede, viene sopra il tallone, guarda, Vai, vai, naturalmente c'è anche la variante più facile, eh, di non tenere appoggio, non vi vergognate a farlo, non c'è problema, io lo faccio con voi, guarda, via, sì, 3 secondi, 2, 1, posizione, Provena, superman completo, pancia giù, braccia tese, stacco gambe e braccia, 2, 1, sali, up, 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 prendi aria, vuoi aria, prendi aria, vuoi aria, vieni aria, vieni aria, bene il lavoro, ricordatevi di alzarvi delicatamente al termine del lavoro, 2, 1, recupera, vengo in fuori, push, press, ora, petto in fuori, apri le spalle, 2, 1, ale, su, su, guarda le mie ginocchia, sono scariche, leggermente flesse, così non sovraccarico la colonna, guarda il gomito, non vengo così, eh, ok, angolo a 90, estensione e flessione, 10 secondi, e poi il jumping jack, lavoro di coordinazione, ma anche lavoro aerobico, 4, 3, 2, recupero, jumping jack, ok, e dopo andiamo a terra ragazzi, apri il nostro spacca addome, 90 secondi, 3 esercizi diversi, 2, 1, si sale, up, ok, bene, i nostri due giri di riscaldamento per la parte alta sono andati, mobilità articolare andata, iniziamo a essere caldi, quindi adesso ci prepariamo, andiamo giù a terra, in posizione subina, e andremo a iniziare a fare i crunch, 2, 1, recupera, vieni a terra, potete bere, avete 40 secondi, com'è? Ci state? Bene, ragazzi, non siamo 300, ciao, vado via, forza, chiamate gli amici, vado a casa se no, eh, 300 persone voglio, tutte lì, 20 secondi, giù, 3 esercizi, crunch classico, crunch a gambe flesse, crunch a gambe tese, 10 secondi, 30, 30, 30, ok, ci prepariamo, 4, 3, 2, 1, sali, niente lavoro, ascolta l'addome, via, stacca gli scapole da terra, fuori aria e sali, prendi aria e scendi, via, 1, 2, 1, vieni, 2, 1, vieni, 2, 1, vieni, brucia, ma non fa male, 1, sali, vai, 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 fuori aria e spingi, 3, 2, 1, vieni, vai, 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 10 secondi, tienilo, 3, 2, 1, recupera, bene, 30 secondi, per primo è andato, altro blocco da 3, primo esercizio, ok, twist, gambe da una parte, busto dall'altro, secondo esercizio, mani in appoggio, mani in appoggio, sforbiciata con il tallone di pochi millimetri dal pavimento, ultimo, slittamento laterale, ok, 3, 2, 1, vieni, lascia un twist, via, via, forza, 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 lo sguardo segue, le mani, le gambe, le ginocchia vanno sulla parte opposta, tieni e lasciano, 15 secondi alla sforbiciata, vai, 10, non volare, resta con me, forza, 3, 2, 1, sforbiciata, eccolo qui, vieni l'addome, vocalizza l'attenzione qui, non sul quadricipite, non stringere il quadricipite, vai, 15 secondi, 4, 3, 2, 1, girati, supini, vai, è l'ultimo lavoro, tutto quello che abbiamo fatto fino adesso era riscaldamento, ok, chiamiamolo così, un warm up che piano piano è andato a crescere come vi dicevo prima, 10 secondi e poi il tanto desiderato recupero e i nostri blocchi di gambe, addome e glutei, 3, 2, 1, stop, bene, abbiamo 90 secondi di recupero, potete bere ragazzi, ok, si bere e ci prepariamo per il nostro bel lavoro, vi consiglio di tenere accanto a voi i pesi, perché inizieremo con uno squat, ok, quindi si parte con uno squat classico, plank dinamico, skip alto, affondo frontale, dopodiché andremo a fare uno squat più due squat jump, un plank, sali e scendi, uno skip basso e uno affondo posteriore, 8 esercizi, 4 giri, 16 minuti non stop, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, chiamate i vostri amici, vado via, 30 secondi e si parte, prendete i pesi, ok, vale, guardate faccio il furbo, lo scarico, 20 secondi e si parte con lo squat ragazzi quando andate in squat non allargate le gambe così le ginocchia sono in linea con il bacino ok? mi raccomando fateci attenzione e non staccatevi dall'olida terra non vi fate male se vedete che non ce la fate affermatevi ascoltate il vostro corpo e ripartite ragazzi ci siamo 3, 2, 1 vieni si parte 16 minuti ok squat classico adesso non si parla più non si scrive più si lavora mi voglio con me prossimo esercizio plank dinamico avanti e indietro vai 10 secondi vai 4 3 via 2 1 dinamico vieni a terra vai alle su abbiamo lo skip alto dopo 10 secondi 10 secondi 3 2 1 alto chi fa vai ok tanto ragazzi io vi ho messo il bip apposta quando inizierai a sentire il bip è perché mancano 3 secondi al cambio quindi rapidi dinamici step successivo con i manubili a fondo frontale alternato dai 10 secondi dai 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 3 2 1 vieni con me apri il compasso giù 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 occhio perché dopo abbiamo uno squat più 2 jump i jump sono classici è forza esplosiva se ne andiamo verso l'albo eh li facciamo a corpo libero forza 3 2 1 vieni con me 1 2 jump 1 2 riparti recupera 1 2 jump 1 2 recupera 1 2 jump 1 2 recupera 1 2 jump recupera 1 jump un altro plank up and down via forza su dai step successivo skip passo tienilo 3 2 1 passo schippa giù vai 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 si riprendono i manubri eh dopo andiamo in a fondo posteriore e finisce il primo giro abbiamo altri 3 uguali chiedi con me 5 dai 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 3 2 1 chiedi con me dietro forza apri le spalle metti il fuori via 15 15 raga e si riparte con lo squat i manubri li abbiamo in mano via 3 2 1 io li appoggio qui eh via 1 secondo giro 2 dai dopo c'è il plank dinamico lutei verso i talloni apri bene le spalle metti il fuori forza potenziate ragazzi è importante questo lavoro per prevenire infortuni 4 3 2 1 dinamico vieni forza 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 prossimo step skip alto 3 2 1 alto vai su su tumulare compatti compatti io non ho ancora creato quella palla che voi tutti conoscete ancora no fino a che non superiamo i 300 oggi niente palla vai 8 secondi andiamo sulla fonda frontale dai 3 2 1 frontale si apri il compasso guardate il pupilo dritti ok dai forza cercate di imparare rubando con gli occhi 8 secondi e abbiamo 1 squat 2 jump 2 1 vieni 1 2 1 2 si parto 1 doppio 1 2 vieni con me 1 1 2 vai 1 ultimo block dai ce l'abbiamo 1 vai dopo c'è il 6 scendi vieni up and down forza c'è lo skip basso dopo forza vai 3 dai 1 alle giù tienilo 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 alle si con me grandi dai abbiamo la fondo posteriore prossimo step e partiamo poi con il terzo giro 5 dai 3 2 1 vieni fine del secondo giro con questo siamo al giro di boa 8 minuti al termine dei nostri 16 via si riparte poi dallo squat classico 3 2 1 giù sali forza scrivete troppo me ne vado vediamo il plank dinamico dopo io vi faccio le battute perché vi voglio sempre sul pezzo concentrati 3 2 1 dinamico vai 15 secondi grandi 4 3 3 2 1 skip alto vai si vai poi c'è l'affondo frontale naturalmente ragazzi se iniziano a sentirvi stanchi non solo a livello aerobico ma anche a livello muscolare posatevi i pesi si continua a corpo libero il corpo il corpo è il vostro padrone è il vostro padrone quindi ascoltatelo se vi da 16 di me 3 2 1 tieni ok apri bene 15 secondi 15 secondi meravigliosi dopo abbiamo un squat più il jump 3 2 1 vieni 4 1 2 jump 1 2 arrivati 1 2 1 2 via 1 doppio 1 2 vai 1 doppio 1 2 1 1 squat 1 jump solo vai giù up and down via su forza dai forza 20 secondi è un skip passo 2 2 1 skip passo vieni si vai 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 e poi abbiamo la fondo posteriore via via dai ragazzi forza forza 15 secondi di lavoro rimani con me dai dai 10 tra la fondo posteriore dai forza 4 3 2 1 giù giù e poi abbiamo il quarto giro grandi 10 10 secondi 3 2 1 squat quarto e ultimo giro 2 3 forza dai abbiamo il dinamico dopo eh non volare non volare 8 secondi al dinamico plank eh 4 forza 2 via 1 dinamico alle non volare dopo abbiamo lo skip alto e la fondo lontane con i manubri 4 dai 2 1 alto skip si vale muovi le braccia su 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 dai 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 vieni su con la cambetta farla salire dopo riprendiamo i manubri e andiamo con l'affondo frontale alternato 4 3 2 1 vieni 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 le spalle abbiamo poi al termine 4 esercizi giù torna giù torna vai con l'affondo frontale il ginocchio e la gamba dietro si avvicina ma non tocca il pavimento 2 1 vieni squat doppio jack 1 2 via 1 doppio 1 2 via 1 doppio 1 2 doppio 1 dai 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 1 doppio up and down via 3 secondi skip passo 1 vieni giù dai 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 forza 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 20 secondi dai 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 tieni lì tieni lì 10 secondi di lavoro 3 2 1 a punto posteriore giù e l'ultimo e poi c'è recupero abbiamo un minuto solo eh di recupero e poi ripartiamo con un altro giro anzi 4 giri con altri 8 esercizi diversi 3 dai 2 1 si beve ok bene molto bene com'è? ci siamo vale buono ragazzi abbiamo un minuto di recupero adesso ne abbiamo 40 ripartiamo sempre tenendo vicini i pesi primo esercizio squat e press con l'estensione delle braccia verso l'alto secondo esercizio un side plank laterale con un molleggio terzo esercizio jumping jack e poi senza che ve li so dire tanto non vi ricordate come è morta manco 16 minuti abbiamo fatto dai forse ragazzi se parte squat and press vando alle ciance poche parole 2 1 altri 4 giri via 1 vai via le mani dalla tastiera anzi prossima volta che ci rivediamo faccio due cose se non siamo più di 300 non faccio lezione e poi vi stacco anche la comunicazione vi levo i messaggi ok facciamo così vi dovete allenare forza 4 alziamo il plank 2 1 vai forza io scherzo mi prendo in giro dai dobbiamo divertire questo è il bello 10 secondi e poi c'è jumping jack 3 2 1 sali hop jj prossimo step riprendo i manubri e vado a fare un affondo twist dove il ginocchio destro gira sinistra ferma ritorno in posizione sinistra gira destra ferma se volete con i manubri 5 4 3 2 1 vieni con me 1 giro 2 riparti eccolo qua prossimo esercizio 4 squat diversi squat classico squat con lo stacco del tallone squat jump squat con impulso 2 1 continuisci con me 1 stacca il tallone squat jump impulso riparti fermo 1 tallone jump impulso e via 1 tallone jump impulso vai squat tallone non c'è tempo side plank sinistro come prima come un legio vai prossimo step calciata dietro 10 secondi 10 secondi ai 3 2 1 calciata vale ok tetto successivo per chiudere il primo giro squat isometrico ok vi chiedo di chiudere gli occhi di stendere le braccia e affidarvi a me ve l'ho messo per ultimo apposta 3 2 1 fine qua rilassa il battito volé non fa male se ti lasci andare non fa male senti l'aria che ti accarezza morbidi apri le spalle 15 secondi e poi si riparte con lo squat e press per il secondo giro dei 4 è una lezione che sta affilando liscia morbida vi ho dato poco tempo di recupero sono 50 minuti intensi 2 1 party squat press 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 ragazzi meglio di svegliarlo eh andiamo un po' su 15 secondi alzai il plank con molleggio 10 secondi dai 2 1 laterale vieni vale via ok ok già fingeva che sta qua successivo eh e poi appunto twist 10 secondi forza 4 3 2 1 vale via via ok avete visto che bella lezione che abbiamo costruito insieme abbiamo unito tutto quello di cui vi parlavo senza mai riposare quindi abbiamo lavorato anche sulla fase aerobica perché ogni 3 o 4 esercizi ho messo sempre sulla andatura 3 2 1 vai col twist gira apri le spalle dai via 20 secondi con me ragazzi con me 5 3 2 1 vai con i 4 squat 1 tallone già impulso ribatti piano 1 tallone jump impulso ribatti 1 tallone jump impulso vai squat tallone e via con il side plank laterale non mi importa la velocità non mi importa a me importa il movimento via via 10 secondi ragazzi alla calciata dietro 4 3 2 1 calciata dietro via via vai 15 secondi all'isometria e poi diamo il giro di boa 8 minuti alla fine abbandonatevi a me 2 1 giù abbasso il battito apri le spalle io sono con voi mi tengo le bottiglie vicino per partire subito con lo squat e press 10 secondi 4 3 2 1 squat press squat press press step successivo plank laterale side plank 10 secondi 10 secondi 10 secondi ci sei eh 15 secondi 15 secondi qua senti la fascia 8 secondi al jumping jack 3 2 1 1 10 10 secondi 10 secondi all'affondo twist 2 1 1 vieni vieni presi giro giro 15 secondi 15 secondi 15 secondi 10 non mi volare perché abbiamo i 4 squat diversi 3 2 1 squat ok 1 tallone jump in pulso ok riparti con me 1 jump si scusate tallone jump impulso riparti piano 1 tallone jump in pulso squat 1 tallone e side plank adesso su vale calciata dietro e isometria e finiamo il terzo giro e poi gli ultimi 4 minuti 3 2 1 vieni con la calciata vale ragazzi 10 secondi terza isometria 3 2 1 giù mi do le mie mani 8 secondi 4 3 2 1 ultimo giro salgo press 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 vai ultimo giro 4 minuti il nostro arrivo è lì manca veramente poco i nostri sacrifici i nostri sacrifici sono premiati tra pochissimo via in giù 2 1 laterale via 15 secondi 15 secondi al jack jack vai vai sensi qui 4 3 2 1 dj stop 5 6 10 secondi all'affondo twist alternato 2 1 1 vieni gira vai vai 20 secondi stavolate eh io sono con voi prossimo step qua diversi 2 1 4 finali 1 tallone vai col jump impulso riparti con me 1 tallone jump su 1 tallone jump impulso riparti 1 tallone punto di giù laterale su bolleggia 20 secondi calciata isometria e abbiamo finito 4 vai 3 2 1 dietro vai 1 2 in ultimo lavoro è volata è volata questa lezione via 3 eccoci meravigliosi 15 secondi all'arrivo la nostra palla è uscita a cannone 3, 2, 1, stop grandi com'è? ci siamo? grandi ok, bello com'è? fantastici grandi ragazzi allora ne pensate che è finita? se bene allora adesso che io mi piace mi piace divertirmi vi dovete prendere un altro telefono o chi sta a casa con voi figli, sorelle, fratelli mogli, nonni due minuti di plank due minuti di plank tutti insieme e vi fate fare una foto e mi taggate e taggate uo 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 ma ostia siamo 2,50 ok? due minuti fatevi fare una foto ok? ci siamo due minuti di plank guardate me la faccio pure me la faccio pure io me la faccio pure io la foto grande coach grande coach una volta ti invito in una diretta perché voglio che saluti tutti i nostri amici allora me la faccio anche io la foto quindi sono dos minutos bene alle due minuti ci siamo pronti? asciugatevi due minuti pronti? pronti? 3 2 1 lavoro faccio la storia ragazzi stiamo online come promesso anche io faccio i due minuti forza dai un po' ce la faccio io ce la fate voi un minuto 50 secondi 40 30 30 20 20 10 secondi 4 3 2 1 stop ole grandi ragazzi a testimonianza che non ho barato due minuti due minuti e 26 decimi allora grazie ragazzi grandi io spero che vi siate divertiti noi ci vediamo la prossima settimana restate connessi sulla mia pagina e su quella della Wawiro Mossia perché si finito però se volete ne facciamo un'altra a parte scherzi ci vediamo la prossima settimana ragazzi seguite le mie stories e quelle della Wawiro Mossia taggateci io spengo la musica perché se no non è carino taggateci restate connessi io vi voglio bene a tutti a palla de foca coach a palla de foco con la W finale ciao ragazzi vi voglio bene grandi ciao